Con 4 minuti di recupero la Lazio vince all'ultimo respiro, batte il Brescia faticando più del dovuto Raga vi dico la verità, semplicemente era quello che mi aspettavo, che la Lazio sottovalutasse il Brescia Anzi ha fatto molto peggio di quello che doveva fare in realtà Perché ha giocato un'ora piena, un'ora piena suppongo, comunque più o meno un'ora con un uomo in più Con il calcio di rigore a favore perché ci stanno si suicida dopo ne parliamo E ragazzi alla fine la Lazio la vince, il Brescia non merita la sconfitta, assolutamente no Però tanti errori individuali, adesso ne parliamo Come sempre invito a lasciare mi piace, mi piace Qualora ragazzi voleste appunto qua sotto, cioè successivamente in giornata, il post partita dell'EFA Cup Visto che me l'avete chiesto in tantissimi Detto questo, detto questo, iscrivetevi, iscrivetevi e parliamo della partita Alla fine la risolve immobile con una doppietta Era un test molto 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 difficile, difficile perché dopo 8 vittorie di fila Non era facile per la Lazio abbassarsi e capire che il Brescia Nonostante di nome facesse Brescia, potesse essere un avversario molto più insidioso e molto più difficoltoso Di tutte quelle affrontate fino adesso Perché il Brescia arrivava senza niente da perdere Il Brescia stava in un momento d'oro, il Brescia aveva vinto diverse partite e si era rialzato Il Brescia affrontava una Lazio che vinceva 8 partite di fila e che vinceva una settimana e mezza fa La Supercoppa italiana contro la Juventus, la più forte delle italiane, 3-1 Quindi il Brescia se l'è giocata tranquillamente a viso aperto I primi 5 minuti in realtà ad onor del vero la Lazio gioca meglio Forse proprio il gol è sbagliato da Caesero Tra l'altro vi lascio qui alla mia sinistra OneFootball Se vi va di scaricarla passate dal link in descrizione Mi raccomando perché anche adesso che è iniziato il calcio mercato Comunque potete rimanere sempre aggiorni sul mondo del calcio Quindi il link lo trovate in descrizione Cliccate e andate a scaricarla Vi dicevo, i primi 5 minuti la Lazio gioca molto bene E mette in difficoltà il Brescia Forse il contraccolpo del gol annullato Però dopo 5 minuti la Lazio sparisce Fa il gioco del Brescia Abbassa il baricentro Abbassa i ritmi Il Brescia gioca a pallone Balotelli ragazzi Purga 1-0 Lì è vero che È vero che Ci sono due errori grandi secondo me Il primo di Correa che perdeva il pallone ma ci può stare E il secondo di Luis Felipe Due grandi errori Il problema più grande ragazzi Ma molto più grande È che il Brescia stava giocando da un quarto d'ora Cioè il gol del Brescia è meritato Ok lì il vantaggio del Brescia è meritato Perché il Brescia stava prendendo sempre più campo Aveva abbassato i ritmi Aveva invitato praticamente il Brescia a nozze Giocando così E il Brescia aveva messo la difesa a centrocampo E questo ragazzi era un punto a favore Molto importante e molto grande per il Brescia Tant'è che Lulic Non so se ci avete fatto caso Ha sbagliato 10 volte la chiusura E molto spesso il Brescia andava ad affondare lì Poi non so se a Lulic mi è piaciuto Ma secondo me lì ha sbagliato veramente tanto Succede che il Brescia prende campo E addirittura quando vede che la Lazio non fa cenno Addirittura alza i ritmi Un problema grande Un problema grande Qua ragazzi per quanto poi gli si voglia dare merito L'ha sbagliata Inzaghi L'ha vinta alla fine Quindi tanto di cappello Però l'ha sbagliata Inzaghi Perché? Perché tu non puoi pensare di uscirne con il palleggio Senza avere Luisa Alberto Che è il giocatore che si abbassa Che ti prende il pallone dalla difesa E che ti amministra in fase offensiva Tu non puoi pensare di prenderla con il palleggio Non puoi pensare di costruire dal basso Se non hai il costruttore Se non hai l'uomo che ti dà il plus E il discorso è che più la Lazio tiene ritmi bassi E più il Brescia gioca a pallone Tra l'altro Corini è molto bravo Perché va a sacrificare un giocatore Secondo me di tutto rispetto Anche a livello qualitativo offensivo come Spalek Lo va a sacrificare mettendolo praticamente a uomo su parolo Che era l'unico che poteva un pochino Diciamo costruire Mettendo Spalek a uomo su parolo Che succede? Succede che si mette lì a uomo E la Lazio viene bloccata Tra l'altro la Lazio non aveva Luisa Alberto La Lazio non aveva Lukas Leiva Secondo me ragazzi se ti mancano due giocatori così Ripeto non puoi giocare in quel modo Devi rivoluzionare il tuo modo di giocare Dopo il gol poi in realtà la palla la tiene la Lazio Perché è la Lazio che fa No che fa la partita perché la partita non la fa La Lazio tiene la palla Ma fa un possesso palla talmente sterile Che comunque non mette paura al Brescia Tant'è che la maggior parte delle volte Che la Lazio arriva dalle parti di Joronen È perché lancia Lancia, lancia Se tu stai facendo un possesso palla per costruire dal basso Non trovi alternative E finisci sempre con il lanciare C'è ovviamente qualcosa che non va Che devi rivedere Una cosa che Inzaki secondo me non ha mai visto È una costruzione di niente Non costruivano nulla Ripeto senza Luisa Alberto e Lukas Leiva Secondo me non puoi prepararla così Doveva prepararlo assolutamente In modo migliore Tant'è che il Brescia Tant'è che Corini Fa praticamente il passo in avanti E blocca tutti i centrocampisti della Lazio E i terzini vanno a bloccare le ali Praticamente fanno una muraglia Una sorta di placcaggio Che però blocca insistentemente E in modo piuttosto importante A mio modo di vedere Perché poi gli stava riuscendo Tutto il centrocampo della Lazio E tutta la fase offensiva della Lazio Il discorso secondo me è che Inzaghi mio gli interpreti cambiano E allora devi cambiare anche modo di giocare Per dire Se ti faccio esempio con la mia squadra Se non abbiamo né cali di celegeo E davanti punta mettiamo Zaniolo Non possiamo giocare come giochiamo con Gieco Perché Zaniolo non ti fa il lavoro di sponda Perché Zaniolo non viene dietro Perché Zaniolo non fa l'attaccante che fa la torre Non è così Cambiando interpreti Devi ovviamente cambiare un po' il modo di fare Poi gli è andata bene Perché poi pareggiano Perché Cistana fa una cazzata pazzesca Ragazzi la Lazio vince Si merita la Lazio Ma diamo anche grandi demeriti Secondo me a Cistana Poi ovviamente è una squadra che fa 9 vittorie di fila Da romanista sofferente Merita solo gli applausi Perché comunque devi fare 9 vittorie di fila Arriveranno in modo sempre difficoltoso E una volta all'ultimo E una volta con rigore E una volta con rimpallo Io mi ricordo quando nemmo fatto 10 di fila Le prime 10 Non è che vincevamo tutte le partite in modo tranquillo Qualcuna sì Qualcun'altra serviva sempre il plus Però ragazzi mi ha detto anche Che le partite le devi vincere Cistana però fa un'idiozia pazzesca Perché tu sei già ammonito Sta andando che hai stato verso Joronen Lascialo andare verso Joronen Fagli tirare verso Joronen Poi magari Joronen parla Magari prende gol 1-1 E la palla si rimette al centro Invece Cistana Lo butta giù Giammonito Cartellino rosso Immobile segna su calcio di rigore Il Brescia Rischia di demoralizzarsi E resta in 10 per un'ora Le ragazzi La cazza di Cistana Secondo me Pesa tantissimo Dovevo lasciarlo segnare Tra l'altro proprio prima del gol Del pareggio Del Lazio su calcio di rigore Stavo facendo i complimenti Al Brescia Tra me e me Perché notavo come giocasse corto I centrocampisti del Brescia Giocavano praticamente a uomo Sui centrocampisti della Lazio Il fatto che i due terzini del Brescia Riuscissero ad alzarsi Ad abbassarsi perfettamente In linea con gli esterni Del centrocampo della Lazio Aiutavano appunto I difensori del Brescia A trovare una sorta di blocco Ok Quando però c'è L'espulsione di Cistana Ovviamente Corini deve rivedere tutto Deve rivedere tutto Perché? Perché? Punto 1 Perché devi levare un attaccante Per mettere un difensore E questo Già che poi metti Mingravity Non è che sia proprio di buona spiccia No Mingravity Vabbè Al di là delle battute Però ovviamente devi farlo Levi Torregross E metti Mingravity Che è giusto così È giusto così ragazzi Perché? Poi ho visto che Torregrossa È un po' incazzato C'ha ragione perché Perché deve penare lui Per le cazzare di Cistana Però come mossa tattica Penso non si possa dire nulla Perché comunque Tu in quel momento Torregrossa è un costruttore Torregrossa è un giocatore intelligente Torregrossa è uno che Diciamo costruisce Ok? Quel momento Non aveva bisogno Il Brescia di un costruttore Il Brescia aveva bisogno Di un giocatore Cioè non aveva bisogno di quello Non andava a costruire il Brescia Il Brescia doveva chiudersi E cercare magari Con il lancio Della disperazione Di fare il 2 a 1 Perché sarebbe stato inutile Tendere un costruttore Quindi che fa Corini Una cosa intelligente Leva Torregrossa Mette un difensore in più Si difende il Brescia Anche bene E poi appunto Lascia Balotelli davanti Perché Balotelli è un signor giocatore Che poi per quanto Se ne possa dire Perché ora già senti vai Ma Balotelli nazionale Piano Piano Perché Balotelli fa una partita bene E 12 male Se dovessi tenere una forma strabiliante Per tutte e 19 le gare Del ritorno O io mi alzo in piedi Dico va bene Balotelli Vieni Però deve venire Deve dimostrare di essere Quel giocatore importante Quel giocatore intelligente Deve maturare Prima di tutto Balotelli deve maturare Ok? Metti Balotelli E lasci Balotelli La vitora grossa E' una cosa che ci sta Il Brescia serviva solamente Difendersi E lanciare per Balotelli Dopo l'1-1 in realtà La Lazio Attua un sistema di gioco Almeno a fine primo tempo Che è molto intelligente Perché Avendo l'uomo in più L'uomo in più della Lazio Lo fa Correa L'uomo che resta scoperto È Correa Non va bene Perché Correa È quel giocatore Che ti slancia Dal centrocampo All'attacco Questo così facendo Permetteva sempre La Lazio Di difendere un uomo in più E attaccare sempre un uomo in più Perché vicino ai mobili E Kaisedo Si avvicinava sempre Correa E questo era un aspetto Molto negativo Attaccare a tre Per la difesa del Brescia Nel secondo tempo Bravo Corini A prendere le contromisure Tant'è che mi aspettavo Che si giocava Stato una porta sola L'avevo anche scritto su Instagram Ho preso praticamente Tutto quello che ho detto su Instagram Dicendo che la Lazio Avrebbe faticato Che avrebbe Penato le sette camicie Le proverbiali E poi appunto Però che avrebbe vinto Così è successo Però mi aspettavo Nel secondo tempo Dopo l'esposizione di Cestana Una Lazio Ha una porta Quindi che attaccava 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 Poi non vi nego Che magari Avrebbe potuto Fare un gol E basta E vincere 2 a 1 Però mi aspettavo Una Lazio che attaccava Invece nel secondo tempo Il Brescia esce fuori Bene Esce fuori con intelligenza Ed esce fuori Soprattutto con tanti muscoli Bloccano Correa E ragazzi Mi viene da dire Che Corini Sia uno degli allenatori Più preparati in generale Del nostro campionato Per come le studia E per come riesce Soprattutto Cosa molto rara A cambiare A trasformarsi A partita in corso Ovviamente Poi dipende dagli eventi E questo è molto Molto importante Bravo Inzaghi Solo una cosa A riprovarla E ad osare Perché ragazzi Inzaghi c'ha un pregio gigante Che è quello che osa Inzaghi osa Anche quando In supercoppa italiana Ha tolto Lucas Leiva E Luisa Alberto Per mettere Parole e Cataldi E poi Parole e Cataldi Vi l'hanno fatta vincere E perché ha osato Oggi lo fa Mettendo i terzini ali Ok l'aveva già fatto Mi sembra a Cagliari E poi ha vinto così Terzini ali Metti i terzini Sulle due fasce Dei terzini Le ali Che vanno a spingere Quindi fanno un lavoro Prettamente offensivo Va detto che è un'arma a doppio taglio Perché poi il Brescia Soprattutto con Tonari Andava sempre ad attaccare Sulle fasce E c'erano sempre buchi così Però ti permette di andare avanti Poi alla fine la vince la Lazio Quindi tanto di cappello Che cosa gli vuoi dire Se vincono Hanno sempre ragione Comunque è stata una partita Molto divertente E devo dire di oggi Oggi di essermi veramente Veramente divertito Fatemi sapere la vostra In un commento qua sotto Mi raccomando Iscrivetevi al canale Qualora non l'aveste già fatto Io vi ringrazio Per aver visto questo video Se il video è piaciuto Vi lascio un piaccio Come sempre C'è un dislike Vi ricordo che oggi Insomma se questo video Raggiungerò un numero Molto buono di like Vi porterò le fake up E poi stasera C'è la Roma Non mi sto cacca sotto Quindi regà Vediamo un po' Vi ringrazio per aver visto questo video Buascelà all'alene come sempre Ci vediamo ad un prossimo video